Il problema del nuovo tratto di strada della Sette Ponti all'altezza di Ponte Buriano è oggetto anche di un intervento del Comitato Valle delle Piagge. Che cosa chiedete? Noi abbiamo mandato nei giorni scorsi una lettera alle autorità del nostro territorio, a partire anche dal prefetto, perché la zona venga studiata attraverso un tavolo tecnico per valutare quello che sta accadendo anche in merito ai numerosi incidenti verificatosi da settembre fino ad oggi, che sono 10, quindi un numero considerevole. Va detto che il vostro Comitato nacque, lo ricordiamo, per un problema, per una questione che avvenne nel Comune di Capolona. Qui siamo nel Comune di Arezzo, però voi intervenite anche sul Comune di Arezzo. Il Comitato si è costituito per rappresentare non solo Capolona, il territorio di Capolona, perché era il momento in cui dovevamo e vogliamo continuare a mantenere alta l'attenzione sulla tutela del patrimonio storico, paesaggistico e culturale della nostra zona, che riguarda non solo il Comune di Capolona, ma appunto Arezzo e altri comuni come Castiglion-Fibocchi. Per le vostre iniziative auspicate tempi piuttosto brevi? Assolutamente sì, perché si parla in questo caso della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, perché se si è pensato di dare un ponte alternativo, a un ponte che rischiava e rischia di implodere come quello storico, importantissimo per noi di Ponte Aburiano, avere un'alternativa, una viabilità che però pone gli utenti a dei rischi seri di incolumità come sta avvenendo, insomma non è una cosa da poco.